Campania ben trovata a Erpigna, il 7 di gennaio le feste sono finite ma chiacchiere e caffè prosegue ogni giorno alle 7 e un quarto per portare il sorriso, le informazioni, il buon umore per darvi il buon risveglio la mattina. Tante le notizie da dare e le cose da commentare, tanti amici sono venuti a trovarci questa mattina, intanto salutiamo quanti ci seguono con affetto anche dal mondo attraverso il web in streaming, buongiorno ben svegliati, le chiacchiere le mettiamo noi, il caffè ottimo è quello del Gran Bar Centro Servizi Mocia che ci accoglie come ogni martedì. E allora, buongiorno e ben trovata, cominciamo dalle signore, Barbara Evangelista, Assessore del Comune di Mercogliano, Assessore della Cultura, ben trovata. Piacere, buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno e ben trovato al direttore degli uffici della Curia dell'Abbazia di Montevergine del Museo, ben trovato ad Emanuele Mollica. Buongiorno a tutti, buongiorno. È una mattinata meno fredda di quelle degli altri giorni, ma comunque il tempo è da lupi, direttore Claudio Papa della Ciriaco.it, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo a vedere subito, no io sento una musica in sottofondo, allora forse ci sono altri amici che sono venuti a trovarci. Buongiorno Anna ed Emilio, Iemian, buongiorno, ben trovati. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io vedo che vado subito da Anna perché Anna si è messa al calduccio, lei è vero? Sì, 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 mi sono azzeccata sotto la stufa. Intanto possiamo dare il buongiorno ai nostri telespettatori con un po' di musica che non deve mancare mai durante questo 2020? Sì, va benissimo. Ok. Regaliamo una danza francese. Cominciamo così. Cominciamo così. Cominciamo così. Cominciamo così. E l'applauso da Chiacchiere e Caffè dai nostri telespettatori per questo inizio in musica scuota la testa Claudio Papa che dice... E' molto bello. E' bello. Intanto giusto per i nostri telespettatori che non conoscono Iemian, ma Emilio questo che cos'è? Cioè come lo chiamiamo questa mandola modificata? Questa è la Ghironda. Questa è la Ghironda. E' la Ghironda. E' la Ghironda. C'è uno strumento che nasce tra il 1250 e il 1300 sotto un'altra forma, è uno strumento italianissimo, anzi europeo. viene utilizzato però soprattutto nel nord ovest dell'Italia, nello specifico in Piemonte. Purtroppo non è mai arrivato a fin giù dal Piemonte. Che cosa suonava invece Anna? Anna suona invece un pandairo di Pegna Parda che arriva da Salamanca, che è un tamburo tipico di quella zona della Spagna, praticamente che viene utilizzato dalle donne. Una miscela comunque di suoni, di musica, ecco il direttore. Ho una curiosità, ma ha un'affinità con la musica celtica ovviamente? Con la musica folk in generale, perché praticamente come la musica delle aree celtiche, anche questa che abbiamo suonato è una musica adatta per il ballo. Curiosità soddisfatta? Sì, quello che hanno fatto i Remagio è un percorso, è un cammino. Un cammino alla ricerca di qualcosa. Era un cammino, loro non sapevano chi avrebbero trovato, chi si sarebbero trovati di fronte. Loro erano degli studiosi, dei sapienti e partono da quello che era il vicino oriente, che chiamano il vicino oriente, insomma. Quindi non immaginiamo proprio posti lontanissimi, però per il tempo certamente le distanze erano più importanti. Quei posti lì dove oggi... Eh, quei posti lì dove oggi purtroppo ci sono situazioni che ci fanno temere cose grosse, speriamo che non sia così. E comunque, insomma, loro fanno questo cammino. E alla fine chi sono i Remagio? Sono un po' chiaramente forse di altre religioni, forse... Certo non credevano, la prima cosa che fanno vanno da erode. E poi, alla fine, insomma, arrivano in qualche modo dal bambinello, seguono gli Aspo. C'è tutto un discorso molto molto particolare, se ci sta il tempo dopo lo affrontiamo. Di certo è un po' la trasposizione di quello che è il cammino del cristiano. Il cammino del cristiano sempre alla ricerca di Dio. Ecco, noi dovremmo fare questo, dovremmo ricercare Dio. I Remagio camminano, fanno questo percorso alla ricerca di qualcosa di importante. E quindi, alla fine, trovano qualcosa di meraviglioso che ha cambiato proprio l'evento della storia. E di nuovo sono in cammino, anche oggi che sono spariti i presepi, intanto sono stati messi da parte, o verranno messi da parte. Tra l'altro questa è una faticaccia per molti, no? In questi giorni l'assessore mi guarda e dice, beh, è così. Va fatto anche questo, fa parte anche questo della tradizione. Tra poco parliamo anche di altro, però voi lo sapete, che i nostri ospiti diventano le colonne portanti della trasmissione. Io chiedo all'assessore di prestarsi gentilmente, se riesce, a favore di telecamera. Così guardiamola. Prima del mattino, il caos mercato, la sfida di festa agli ambulanti, il sindaco presto, la riattivazione a Campogenoma, ma ci andrà soltanto chi è in regola con le tasse. E gli esercenti scrivono al ministro uno stop assurdo. Poi vedremo tra poco ancora le immagini strazianti che ci arrivano dall'Australia, ma di roghi si parla anche in Irpinia. Brucia la montagna del Vallo di Lauro, paura a Moschiano, evacuate quattro case. Poi ancora piano sicurezza in giunta per i plessi scolastici accade ad Atripalda. Il vigilante ferito, si parla di sanità, perdono il mio aggressore, parla la guardia giurata di Sant'Angelo dei Lombardi, colpita da un immigrato al Ruggi di Salerno. L'avvertenza personale all'osso, la Cisla attacca, Asl ed ospedale, quindi il tema della sanità ancora che ritorna. Basta incomprensioni a Cervinara, un parroco unico per sei chiese. Grazie all'assessore evangelista. Poi tra poco ci dirà invece qualcosa di Mercogliano. La comunità in questi giorni davvero si è mossa all'unisono per portare aiuto al piccolo Ascanio, alla sua famiglia, alla necessità di interventi chirurgici per questo piccolo paziente cardiopatico e non è finita, insomma, non sono finite le feste e non è finita la solidarietà. Sì, ci sono stati due eventi patrocinati dal Comune di Mercogliano e uno in collaborazione con l'Abbazia. Ci sarà il prossimo 11 gennaio, uno spettacolo appunto di beneficenza dove ci sarà una raccolta fondi. C'è da dire che il piccolo Ascanio è un bambino appunto cardiopatico di quattro anni e già ha subito tre interventi e il prossimo, il quarto, a Boston dove potrebbe essere un intervento risolutivo. Ci sarà anche con noi il cardiologo, che potrà dare informazioni un po' più dettagliate in merito alla patologia del piccolo Ascanio. Come dire, le notizie che ci dà l'assessore ci fanno vibrare le corde un po' come la ghironda di Emilio perché questo bimbo di quattro anni che riesce ad unire la comunità ha compiuto un po' un mezzo miracolo. C'è anche questo aspetto, nell'aspetto poi della solidarietà vera e propria di cui c'è bisogno. Sicuramente sì, infatti si è mossa tutta la cittadina di Mercogliano, parliamo anche dell'Irpinia intera. È vero che il papà del bambino è di Mercogliano, quindi insomma ci sentiamo particolarmente coinvolti e c'è da dire che anche le associazioni, Mercogliano Servizi, la piscina, insomma tutti i commercianti hanno collaborato per una raccolta fondi. Stanno collaborando ancora? Stanno ancora collaborando, assolutamente sì, Moviplex, insomma veramente tutti. Aiutiamo a Scania, poi daremo le coordinate ancora per partecipare alle prossime iniziative, all'evento. Direttore, posso? Primo giorno senza mercato, vertice anche per il terminal bus, il comune chiede quasi 600 mila euro. Per i commercianti off limits il piazzale dello stadio, ricorso al TAR, montagne in fiamme nel ballo di Lauro, azione dolosa. E poi si parla di politica alle regionali, il centrodestra favorito nei sondaggi. A Cesinali il caso, il vice sindaco inneggia al duce ed è bufera all'istituto all'agrario di Pago Vallo Lauro, Fortini la scelta tocca alla politica, quindi la regione dà una prima risposta sul caso della scuola che sarebbe dovuta nascere nella villa confiscata ai boss, tra poco andremo ad approfondire. Polemiche all'Andolfi, si rilancia Ariano. Lotteria Italia, l'estrazione dei biglietti vincenti, sono andati a Torino, Gonars, Roma, Erba e Lucca. Queste le prime pagine dei quotidiani locali, poi andremo a dare uno sguardo alle cronache regionali e nazionali. Direttore, intanto oggi è martedì, era il giorno del mercato, c'è la sospensione, ecco una valutazione del caso. Ma intanto è la prima prova concreta di quello che poi è stata l'intenzione dell'amministrazione comunale. Un'intenzione che, va detto, il sindaco ha portato avanti con una pervicacia abbastanza forte, diciamo fino a sfidare, perché il titolo, insomma, sfidare i commercianti, si eva, ecco l'aspetto forse più preoccupante della vicenda è che si va verso il muro contro muro. Si annunciano sit-in, si annunciano ricorsi al TAR e tu sai meglio di me che quando poi entra in gioco il TAR probabilmente le questioni si allungano e diventano sempre più difficili da risolvere bonariamente. Io mi auguro che questa decisione, che in un contesto complessivo può anche funzionare, sia stata meditata per tempo, cioè a me quello che forse viene un po' da dire è che c'è un'eccessiva fretta dal punto di vista dell'amministrazione, oltretutto non avendo già la disponibilità immediata di Campo Genova per spostare gli ambulanti e lì probabilmente si è creato un cortocircuito che adesso mette le due parti l'una contro l'altra. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità dall'una e dall'altra parte che questa questione possa essere risolta ridisegnando un pezzo, il futuro di un pezzo della città. Tra poco o meglio nel corso della mattinata vedremo come e se ci saranno delle proteste, gli aggiornamenti nel corso del Tg delle 14, il sito primatv.it per rimanere sempre sulla notizia e poi ci sono queste fiamme che invece anche in questo periodo sono un paradosso. Non basta evidentemente, non bastano le drammatiche immagini che arrivano dall'Australia a scoraggiare, consentimi il termine, l'imbecille di turno che decide di dar fuoco alle montagne, ai boschi. E' una triste piaga a cui siamo abituati in estate, adesso che si diffonde anche in inverno probabilmente questo impone una vigilanza maggiore, un controllo più serrato perché effettivamente, evidentemente dal punto di vista dell'educazione ambientale se non si comprende a quel punto bisogna intervenire con la prevenzione o con la repressione. Prevenzione o repressione per tutelare la montagna, insomma a Mercogliano poi da questo punto di vista il patrimonio del Partenio, un patrimonio comune all'Irpinia, non solo a Mercogliano, anche su questo l'assessore alla cultura, bisogna valorizzarli ancora di più questi luoghi, è così? Valorizzarli e noi cerchiamo ovviamente anche di sensibilizzare, visto che sono anche all'istruzione, con la delega all'istruzione, sensibilizzare proprio i giovani, i bambini, i ragazzini che sono appunto nelle scuole. Ci saranno degli eventi, dei convegni proprio per sensibilizzare il rispetto per l'ambiente. Dottore Mollica, sui nostri monti che cosa possiamo dire? Di che cosa c'è bisogno? Beh, su questo mi riallaccio esattamente al discorso che è stato fatto, di una grande sensibilizzazione soprattutto nelle scuole, qualcosa che cominci dalle scuole fin dall'elementare, è importante che i bambini crescano con una particolare attenzione a quello che è il nostro patrimonio ambientale, fondamentale per la nostra sopravvivenza. Le piante spariscono dalla faccia della terra, vediamo quello che è successo in Amazzonia, non lo dimentichiamo, quello che è successo in Siberia, quello che sta succedendo in Australia. Voglio dire, la natura è letteralmente violentata dall'uomo e allora è importante che nel nostro piccolo si riesca a cominciare dai bambini, certo i risultati magari si vedranno tra tanto tempo, però almeno cominciamo. Questo filo, musica e ambiente, possiamo riannodarlo? Chiedo anche ad Anna ed Emilio che sono qui anche per partecipare al dibattito. Lo so che voi amate suonare, soprattutto Emilio magari un po' più suonare che parlare. No, 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 chi ci segue lo sa, perché comunque nella musica che facciamo abbiamo sempre trattato del tema ambientale, abbiamo partecipato a festival legati all'ambiente, quindi abbiamo sempre tenuto a cercare di educare la gente anche, faccio un esempio stupido, a gettare a terra il mozzicone della sigaretta, mentre portarsi in giro un portacicchia già sarebbe un grande passo avanti. Basta poco, che ce vuoi? Sì, sì, covatta, se non sbaglio. Esatto, esatto. Ragazzi, avete preparato altro? Possiamo chiedervi, vedo che Anna si è posizionata all'ARPA, quindi immagino che stavolta dove ci portate? Andiamo in Scozia. Ragazzi, dalla Verde Erpinia alla Verde Scozia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'applauso di Chiacchiere e Caffè dei nostri telespettatori a casa. Io ho attraversato montagne, fiumi, davvero un'atmosfera magica, quella che gli Emian ogni volta che suonano regalano agli ascoltatori. Grazie ancora per essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi per averci invitato. Tra l'altro, Scozia e Erpinia, che cosa hanno poi di tanto differente? Aspetta, la prima cosa che mi viene in mente è il freddo e la nebbia. Ecco, tanto per cominciare. Tanto per cominciare. Va bene, ragazzi, poi ci riscaldate voi però con queste note, davvero. A proposito di strumenti, io poi sono un curioso. Questo l'hai fatto tu? No, no. Costruisco anche cose del genere, però no. Questo è il tipico penny whistle irlandese. C'è un flauto che costava un penny, praticamente, che tutti potevano acquistare e suonare. Ecco, un penny. Un penny regala queste emozioni. Claudio, avevi qualche curiosità? Non so, ti ho visto... No, no, io sono incantato dalle... Voglio chiedere anche ai ragazzi qui. meraviglioso. Veramente bravi ragazzi e ci hanno portati con le note a immaginare appunto questi posti. Ecco, un viaggio indietro, un salto nel tempo abbiamo fatto. Facciamo un salto indietro invece sul presepe, ancora qualche curiosità, qualcosa? Perché le feste sì, sono passate, ma noi siamo ancora in questo clima. Sì, vabbè, tornando al discorso delle immagini, rapidamente, diciamo, giusto qualche curiosità, è il fatto che loro seguivano questa stella. Ecco, magari noi siamo abituati a mettere nel presepe la stella cometa, che va attribuita in realtà a Giotto, che stava dipingendo la Cappella degli Scrovegni a Padova, e mette la coda. In realtà i Vangeli, sia quelli canonici che quelli apocrifi, parlano di astro, generico astro, quindi lui mette la coda perché probabilmente due anni prima assiste al passaggio della cometa di Halle, quindi con le rappresentazioni c'è sempre questa stella cometa. Poi, voglio dire, i doni che portano oro, incenso e mirra, rappresentano un po' il simbolo della regalità, quindi rappresentano la regalità di Gesù, l'oro, l'incenso sta a indicare la divinità, e la mirra, ovviamente, che era l'unguento che si spalmava sul corpo dei difunti, l'umanità. Nel presepe vengono rappresentati con delle bellissime vesti orientali, voglio dire, sono vesti importanti, che un po' derivano dal barocco, ma allo stesso tempo anche il loro seguito, diciamo che il seguito di orientali, di animali, di persone, hanno ispirato tanto gli artisti a Napoli, e proprio il fascino, diciamo, guardando un po' gli ambasciatori, queste grandi ambascerie orientali, e anche un po' il fascino di chi veniva da lontano. Quindi il fatto di vedere queste... Buongiorno intanto alla nostra Isabella con il caffè. Vedere chi viene da lontano era visto come appunto il fatto di voler apportare qualcosa, quindi è la curiosità e anche la meraviglia di vedere tutto questo seguito particolare. Infine, è giusto, insomma, anche dire che i Re Maggi rappresentano un po' tutti quanti noi. Noi siamo meravigliati, la meraviglia è di fronte alla venuta, alla venuta di Gesù, quindi è Gesù che si manifesta a chi non lo conosce, quindi è presente in tal senso. Grazie intanto per queste note. Passo il caffè al dottore Molica, prima che diventi freddo. Direttore Claudio Papa, prego, si accomodi. Voglio chiedere all'assessore invece l'evento. Diamo notizie su come partecipare, su come poter aiutare a Scania. Lo ripetiamo. Sì, sabato prossimo, quindi sabato 11, dalle ore 17.30 ci sarà appunto questo spettacolo di beneficenza, l'Abbazia dell'Orito, con tanti artisti ovviamente del posto, quindi del territorio, e con una presentazione presenterà Enzo Costanza. Insomma, invito tutti a partecipare. Ci sarà una raccolta fondi, ci saranno anche dei premi, diciamo, un piccolo sorteggio, anche con qualche premio, perché i commercianti si sono adoperati, insomma, offerti con dei buoni, così come anche le associazioni. Apriremo il giorno precedente, direttamente al comune, i vari salvadanai che sono stati disposti ai commercianti, quindi, insomma, l'importo sarà, ci auguriamo, una bella cifra. per aiutare ovviamente la mamma, il piccolo Ascanio, la famiglia Ascanio. Grazie, noi avremo altri eventi, anche in settimana, su cui vi terremo aggiornati, ci sono delle pizze di solidarietà, ce ne occuperemo. Sì, ad Atripalda so che c'è una pizze di solidarietà, il giorno 8, quindi domani sera, vi invito a partecipare, sì. Noi ci saremo anche con una diretta, quindi daremo, come dire, ancora di più voce a questi eventi, eventi finalizzati alla solidarietà. Prende anche lei il caffè, assessore. Ecco qui. Ragazzi, vi posso invitare a prendere il caffè, se volete. Io intanto con il direttore Claudio Papa chiedo, andiamo avanti perché, direttore, il 2020 è l'anno delle elezioni regionali. Si vota, non sappiamo ancora bene quando, da marzo a maggio, o anche a giugno, e intanto la politica, in questi giorni in cui fa freddo, si scalda. Il quadro qual è? Ma intanto avremo un gennaio, che è sicuramente un gennaio molto intenso, per quello che sarà lo scenario nazionale. Ora, detta così sembra alla bernacca, la previsione. Ma le previsioni portano un tempo nuvoloso, per quello che riguarda lo scenario nazionale. Non dimentichiamoci che il 12, c'è la presentazione delle firme per il referendum, sul taglio dei parlamentari, quindi oltre alle elezioni regionali, probabilmente dovremo essere chiamati a votare, per il referendum, tra aprile e giugno, per confermare il taglio dei parlamentari o meno. E questo potrebbe portare ad avere qualche tentazione di chiusura anticipata della legislatura, per non evitare di votare con il nuovo sistema. Per quello che riguarda le regionali, insomma, credo... In tutto questo ci sono le regionali. Ci sono le regionali dove allo Stato restano i due candidati che conosciamo, però insomma... Deluca e Caldoro... Dietro si lavora per cambiarli. Io credo che la riconferma di Deluca, la ricandidatura di Deluca, è uno dei problemi grossi con cui il PD si doveva fare i conti dopo le elezioni in Emilia Romagna. Per chi tocca al PD fare il passo decisivo, l'accordo con i Cinque Stelle si può chiudere eventualmente se Deluca non è il candidato. Deluca non starà a guardare, ovviamente, per cui toccherà al PD trovare il punto di mediazione. E molto dipenderà sia dal risultato dell'Emilia Romagna sia da quello che è lo scenario nazionale. Perché in Emilia Romagna i Cinque Stelle potrebbero andare in conto a una grossa sconfitta. Questo ridimensionerebbe di molto il potere contrattuale di Di Maio al tavolo della campagna. È certamente uno scenario in evoluzione, uno scenario che allo Stato consegna una situazione sulla quale però se dovessi scommettere che è la stessa anche a maggio non lo farei. Insomma, un penny oggi ce lo giochiamo, ma... Non più, non più di un penny. Non più di un penny. No, Emilia, noi lo utilizziamo anche per acquistare, però giochiamo così. Andiamo a dare uno sguardo soltanto alla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Eccolo qui, grazie al Direttore Papa. I medici mandate l'esercito. Si parla di sanità. Il Sindaco Solidale con il personale del 118 lavora in condizioni inadeguate e il servizio è nel risente. La Morgese, dopo il sequestro dell'ambulanza dal 15 gennaio, telecamere a bordo. Il caso, insomma, è finita la ribalta delle cronache nazionali, ma c'è un tema sanità che di nuovo si affaccia in Campania. De Magistris ha grappato a De Luca e Caldoro. Suoli dello Stire di Caivano il Tar dà ragione agli eredi croce. Insomma, si parla anche qui di organizzazione di servizi e poi il calcio con il Napoli. Grazie, Direttore. Non ha preso ancora il caffè. La prego. Io vedo che Emilio si è andato a prendere qualcosa. Ah, eccoci qui. Dove ci portate stavolta? Questa volta rimaniamo in Irpinia. Anche se lo strumento è scozzese, però Anna un paio di anni fa ha scritto una giga sullo stile delle gighe irlandesi però dedicata all'Irpinia che è chiamata la giga del lupo. Allora, noi parlando di partenio e parlando di montagna siamo curiosi di ascoltare la giga del lupo. Se siete pronti? Sì, sì. Ok. Ok. Grazie a tutti. L'applauso di chiacchiere e caffè per Iemian Pagan Folk che cosa vi aspettate da questo 2020? Speriamo vada meglio del 2019 sicuro. Beh, 2020 siamo nel mese di Giano quindi il dio dalla doppia faccia quindi le due porta abbiamo lasciato una porta e speriamo di trovare un portone quindi veramente C'è stata anche qualche modifica nel gruppo? Ecco Sì, purtroppo nel 2019 appunto proprio alla fine dell'anno i due componenti del gruppo hanno scelto di intraprendere altre strade quindi per ora siamo rimasti in duo io e Anna in duo nella forma originale. Progetti? Per ora Aspetta, aspetta su progetti ho visto Anna che No, per adesso non allora a lungo termine preferiamo non progettare per il momento Anche perché l'ultimo album è uscito da poco a settembre è uscito a settembre per cui adesso continuiamo a lavorare per quanto riguarda appunto il discorso terzo album degli Emian poi si vedrà lasciamo aperto vogliamo lasciare le cose un po' più libere rispetto agli altri anni e vediamo cosa viene vediamo cosa viene Emilio tu intanto ti diletti ancora nella costruzione di strumenti di strumenti musicali ecco come come nasce la come nasce uno strumento proprio dove vai e poi quanto tempo ci impieghi e quando lo fai insomma allora ultimamente più che altro negli spazi liberi però io arrivando dalla provincia di Lecce qui ho trovato un tesoro perché l'Irpini appunto essendo ricca di vegetazione si ha una grossa quantità di legname da poter sfruttare per la costruzione degli strumenti soprattutto legname autoctono rispetto al palissandro non lo so brasiliano che ormai invia a estinzione cercare un prodotto della zona come il noce per esempio che è una valida alternativa per me già importante strumenti a fiato andiamo sugli strumenti a fiato strumenti a corde sfregate soprattutto però cerco di dilettarmi in qualsiasi cosa mi venga in mente il 2020 potrebbe riservarci un nuovo strumento chi sa grazie grazie ancora a Iemian noi siamo quasi in chiusura un po' di cose le abbiamo dette sicuramente sulla sanità Claudio direttore Claudio Papa anche qui dovremo accendere i riflettori perché poi ci sarà la campagna elettorale quindi gli scontri ma al netto degli scontri c'è qualcosa da rivedere forse bisognerà capire quanto effettivamente è costata e quanto pagherà l'utenza questa fine del commissariamento che certamente è un risultato importante ottenuto dal governo De Luca però bisognerà capire quanto costerà ai pazienti e alla comunità il 2020 l'anno dello sviluppo ma dalla cultura con la cultura si può fare sviluppo quindi anche economia e crescita di un territorio assolutamente sì noi ci proponiamo come amministrazione proprio di poter sviluppare insomma il nostro territorio principalmente per l'ambiente per il rispetto per le attività che io posso svolgere anche all'interno delle scuole quindi cultura in collaborazione con le associazioni con l'abbazia con insomma con il territorio intero e quello che ci proponiamo è di collaborare la collaborazione appunto in sinergia possiamo abbiamo assistito tra l'altro ad un meraviglioso concerto in abbazia il concerto dell'epifania anche questi sono momenti in cui la comunità si ritrova e in qualche modo va oltre assolutamente è importante riprendendo proprio le parole della dottoressa evangelista diciamo poter offrire nei limiti del possibile delle cose diciamo per la collettività delle cose anche valide insomma belle dove è possibile raccogliersi dove è possibile poter partecipare tutti quanti insieme l'evento dell'epifania sicuramente rientra in questi momenti è stato molto bello la gente che ha partecipato ha potuto apprezzare voglio dire le cantanti che si sono esibite nel salone degli arazzi dell'abbazia del Loreto e sarà anche lo scenario giusto ricordarlo un'altra volta per un bellissimo spettacolo di solidarietà che si terrà lo ricordiamo sabato 11 alle ore 17.30 se venite andate un po' prima insomma avete modo anche di visitare lo splendore dell'abbazia del Loreto perché a volte non ci rendiamo conto dei tesori che ci sono ma da questo punto di vista anche non solo queste occasioni permettono poi di scoprirgli questi tesori L'Irpinia ha delle straordinarie potenzialità e certamente l'abbazia del Loreto è uno dei suoi tesori più importanti più belli più pregni di storia grazie grazie al dottore Emanuele Mollica grazie all'assessore Marbare Evangelista il saluto è all'Oceano Mangiante che voi non vedete dietro la telecamera così come in regia Silvana Piccarello l'informazione torna alle 14 un grazie di cuore a Iemian ragazzi ci vediamo nel 2020 sarà sicuramente migliore speriamo dei cucchiai anche con questi si sono è bisestile dicono che porta sfiga l'anno bisestile speriamo di no perché magari sai rispetto all'anno scorso vanno meglio le cose si compensa grazie ancora ragazzi non so se possiamo lasciarci con un sottofondo e allora ci lasciamo con la musica di Iemian dopo aver salutato il direttore Claudio Papa grazie direttore grazie a voi buona giornata buona giornata Chiacchiere e Caffè ritorna domattina alle 7 e 15 noi ci lasciamo con Iemian Pagan Folk grazie a tutti grazie a tutti